L'appuntamento di questa sera di TRG Plus ci permette di tirare le somme e guardare al futuro per quanto concerne le attività di una realtà che ormai da tempo TRG segue da vicino, il GAL Alta Umbria, il gruppo di azione locale che opera in sinergia con pubblico e privato a sostegno di iniziative imprenditoriali e promozionali e per la valorizzazione anche di tante manifestazioni del nostro territorio. Lo facciamo perché è il caso, visto che si avvicina alla fine del 2018, di tirare un zunto su quanto è stato fatto ma sono usciti anche i nuovi bandi, anzi la scadenza non è lontana per il 2019 e allora ne parliamo con la Presidente del GAL Alta Umbria Giuliana Falaschi, buonasera e grazie per essere con noi, accanto a lei salutiamo il Direttore del GAL Alta Umbria Matteo Montanari, buonasera e ben ritrovato. Presidente, il GAL Alta Umbria diciamo che ha seguito davvero in maniera indefessa tante realtà, tante manifestazioni, avremo modo anche di accennarlo, ma intanto facciamo un bilancio del 2018 perché sono davvero importanti le risorse che questo organismo pubblico e privato metta a disposizione del territorio in un momento in cui valgono davvero doppio si può dire. Esatto, noi teniamo di dover fare anche una sintesi un po' del lavoro svolto perché come sappiamo poi è giusto anche rendere conto ai cittadini, alle aziende che cosa stiamo facendo perché utilizziamo comunque fondi pubblici che derivano dal piano di sviluppo rurale della nostra regione. Quest'anno siamo arrivati a compimento dopo diciamo qualche difficoltà dovuta soprattutto alle problematiche di natura tecnica dell'ente pagatore che oramai è diventato noto a tutti quanti, a GEA, l'ente pagatore appunto del Ministero che ha creato non poche difficoltà agli agricoltori ma anche allo stesso GAL. Comunque siamo arrivati a termine di questo percorso del primo bando che abbiamo fatto uscire lo scorso anno e sono state esaminate tutte, accettate tutte le richieste, i progetti che hanno fatto i 15 comuni dell'Alta Umbria, quindi sono stati finanziati per intero e al 100% le richieste fatte per un ammontare complessivo di oltre 2 milioni di euro, è stato comunicato l'esito ai singoli comuni e abbiamo verificato proprio recentemente che appunto stanno procedendo con le procedure di gara per l'esecuzione dei lavori e quindi già questo diciamo per noi è già motivo di soddisfazione essere arrivati a compimento di questo percorso. In secondo luogo abbiamo già impostato ed emanato il secondo bando che scadrà fra l'altro a breve perché il 7 gennaio è la data di scadenza, anche questo rivolto agli enti pubblici, sempre con l'intento di valorizzare il patrimonio paesaggistico ma anche storico-culturale dei Borghi. Anche in questo caso è rivolto a tutti i 15 comuni con un patrimonio un budget importante perché sono 2 milioni e 600 mila euro che sono in gioco e oltretutto abbiamo quest'anno portato avanti una serie di interventi anche per la promozione delle manifestazioni del territorio. Questo credo che sia... Poi ci soffermeremo in particolare proprio su queste manifestazioni perché ovviamente noi ci troviamo anche come emittente a parlarne di molte di queste le quali per ammissione degli stessi promotori trovano proprio nel galle ormai negli ultimi anni un punto di riferimento fondamentale dal punto di vista della disponibilità di risorse importanti per l'organizzazione stessa delle manifestazioni. Matteo Montanari, guardiamo, gettiamo un primo sguardo al 2019 perché ci sono due categorie diciamo di bandi. Intanto ci soffermiamo su quello relativo agli enti pubblici che scade come detto al 7 gennaio. Vogliamo entrare un pochino nel dettaglio? Sì, assolutamente. Come ha detto la Presidente, si tratta di un bando con risorse molto corpose perché per tutto il territorio sono 2.660.000 euro, risorse veramente importanti, con una contribuzione al 100%. Cioè i comuni presenteranno il loro progetto e in caso appunto di ammissione verrà integralmente finanziato e sostenuto dal gruppo azione locale. Dunque già questo è un primo dato molto importante. Il bando appunto riguarda la riqualificazione dei centri storici e anche degli ambiti paesaggistici di pregio. La cosa molto interessante è che proprio nell'elaborazione del bando abbiamo puntato sulla qualità dei progetti e in questo senso infatti sono previsti interventi di riqualificazione su o edifici sottoposti ai vincoli di tutela della legge 42 del 2004 che è quella relativa appunto alle autorizzazioni della sovrintendenza, oppure su ambiti territoriali ricadenti in aree SIC, aree Natura 2000, cioè aree naturalistiche di elevatissimo pregio. L'obiettivo qual è dunque? Realizzare la qualificazione di edifici, centri storici e aree di pregio attraverso progetti estremamente validi da un punto di vista qualitativo. Dunque risorse notevoli ma anche qualità dei progetti che verranno realizzati. Tra l'altro negli scorsi giorni, nelle scorse settimane con la Presidente appunto abbiamo anche incontrato i sindaci con i quali abbiamo iniziato a parlare del bando ed effettivamente in cantiere ci sono progetti veramente importanti non solo per Gubbio, Gualdo ma anche i comuni più piccoli faranno degli interventi che veramente nei borghi o a livello di aree naturalistiche possono dare veramente un forte impatto da un punto di vista della valorizzazione del territorio. Facciamo qualche esempio con la Presidente di quello che è stato fatto perché l'elenco dei progetti sarebbe molto ampio però qualche spunto ce lo può dare. Sì anche perché sono stati davvero tutti molto interessanti e credo anche che portino nel proprio interno diciamo anche un valore che va a riqualificare indubbiamente queste aree. Per esempio il Comuno di Costacciaro ha presentato un progetto di riqualificazione del borgo di Costacciaro e il progetto prevede il recupero dell'ex convento che è sito nel centro del borgo, l'ampliamento del Museo del Parco del Montecucco e la realizzazione di uno spazio da destinare a mostre ubicato proprio nel municipio. Il Comune di Fossato di Vico ha presentato un progetto di potenziamento dell'offerta di servizi al turista e al cittadino attraverso interventi di valorizzazione del centro storico di Fossato di Vico. In particolare è prevista la riqualificazione del teatro comunale e la realizzazione di una cucina sociale da utilizzare per iniziative rivolte proprio ai turisti o alla collettività. Il Comune di Gualdo Tadino ha presentato un progetto di valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e del centro storico di Gualdo Tadino attraverso la creazione di un percorso turistico che legherà il teatro Talia alle quattro taverne delle porte. Il Comune di Gubbio invece ha un progetto di riqualificazione funzionale della palestra di San Pietro. Con il progetto si intende appunto realizzare uno spazio polifunzionale al servizio della città e anche dei turisti. In particolare si prevede di ampliare l'offerta culturale delle attività svolte proprio presso la vicina biblioteca sperelliana grazie all'organizzazione anche di eventi, mostre e manifestazioni di carattere musicale. Per quanto riguarda il Comune di Scheggia e Pasce Lupo si parla di riqualificazione della viabilità di alcuni spazi pubblici del borgo di Scheggia attraverso il recupero della pavimentazione esistente. La riqualificazione interesserà anche il sistema di smaltimento delle acque meteoriche e del sistema di illuminazione quindi anche una riqualificazione di carattere estetico funzionale poi all'utilizzo successivo. Comune di Sigillo, un progetto di promozione della didattica ambientale a Villanita e interventi di valorizzazione dell'offerta turistico-naturalistica. Infine Valfabbrica, recupero del centro storico di Valfabbrica attraverso interventi di riqualificazione di Piazza Mazzini e Torre dell'Ororogio, creazione di un percorso turistico sensoriale e realizzazione di materiale turistico informativo tradizionale multimediale. Naturalmente a questi poi si aggiungono tutti i progetti che interessano più da vicino anche i comuni, gli altri otto comuni dell'Alto Tevere. Diciamo che il programma è molto nutrito e anche con progettualità particolari mi viene in mente proprio due settimane fa dei giovani architetti eugubini proprio nell'area esterna alla palestra di San Pietro hanno proposto un'iniziativa per valorizzare quell'area auspicando e in attesa ovviamente di una piena funzionalizzazione di quel contenitore che oltre ad avere una valenza storica perché lì veramente ci sono passate generazioni di persone oltre ad aver ospitato addirittura quell'area che è la festa dei ceri per qualche anno negli anni 30 ma obiettivamente è un luogo da recuperare così come tutti gli altri citati. Con Matteo Montanari prima di chiudere con la Presidente un passaggio anche per quanto riguarda il nuovo bando sull'artigianato perché anche i privati e non solo gli antipubblici sono interessati e anche da parte loro c'è una certa vivacità da quello che è stato fatto fino ad oggi. Il bando sul quale stiamo lavorando e che dovrebbe uscire nelle prossime settimane ecco stiamo mettendo appunto gli ultimi dettagli si chiama Alta Umbria Smart Factory perché è rivolto appunto alle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale abbiamo ripreso un po' il filone di quello che era industria 4.0 che poi è diventato impresa 4.0 e alla fine artigianato 4.0 perché l'obiettivo appunto è cercare di favorire incentivi per le piccole imprese anzi per essere precisi per le micro imprese cioè quelle che hanno meno di 10 dipendenti è un bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro dunque interverremo proprio sui piccoli sulle imprese individuali o di natura familiare con investimenti molto interessanti perché consentiranno soprattutto l'acquisto di nuovi macchinari, di introduzioni di innovazioni digitali di interventi finalizzati al risparmio energetico o alla tutela dell'ambiente dunque tutta una serie di interventi che verranno finanziati con una percentuale di contribuzione altissima che è il 70% attualmente non esistono penso bandi in Italia rivolte alle imprese con una percentuale di contribuzione così alta siamo riusciti a ottenere questa percentuale di contribuzione dunque è un'opportunità veramente molto molto interessante ecco siamo probabilmente il primo GAL che fa un bando rivolto specificamente all'artigianato dunque è anche per noi una prova ecco valuteremo se anche le risorse messe a disposizione e le tipologie di intervento previste che come dicevo sono concentrate soprattutto sull'ammodernamento e dunque sull'acquisto di impianti e macchinari se appunto sia questo tipo di interventi e queste tipologie di contribuzione diciamo soddisfano quelle che sono le esigenze del territorio vedremo appunto che risposta è il bando che come dicevo la pubblicazione è imminente chiudiamo con la Presidente perché come detto bolle in pentola tanto ma ci sarà tanto ancora nel 2019 per una serie di manifestazioni che hanno goduto del sostegno della Galalta Umbria in tutto il territorio manifestazioni che poi valorizzano il territorio hanno un valore sociale perché sono un momento di identità per le piccole o grandi comunità ma anche di attrattiva turistica sì è un po' quello che è già accaduto in questo anno anche qui siamo a fare un discorso di sintesi del lavoro svolto perché abbiamo sostenuto circa 40 manifestazioni distribuite in tutto il territorio dell'Alta Umbria e crediamo che questo non tutti, tengo a precisare che non tutti i Gallo fanno innanzitutto ma non è affatto scontato ce ne sono alcuni anche in Umbria, gli altri quattro che non lo fanno affatto noi riteniamo invece che per sviluppo appunto del territorio che è un territorio appunto rurale sia importante invece dare un sostegno anche da questo punto di vista perché a volte le piccole realtà sono proprio quelle che hanno più necessità di aiuto ma anche le grandi realtà vedo che sono assolutamente molto contenti di questo tipo di intervento che in alcuni casi come appunto lei ricordava hanno un valore anche di carattere sociale per mantenere le tradizioni la compattezza anche sociale di un tessuto che soprattutto nei piccoli borghi potrebbe tendere allo spopolamento come ben sappiamo ma anche nei grandi centri il momento particolare fa sì che non molte risorse siano a disposizione per la promozione quindi questo è il nostro aiuto al di là della parte organizzativa che è già un impegno importante per le amministrazioni ma non solo perché poi gli aiuti sono andati alle varie associazioni, alle proloca chi si occupa di organizzare gli eventi che noi abbiamo selezionato anche in accordo con le amministrazioni locali quindi credo che da questo punto di vista l'esigenza che ci è stata rappresentata abbia avuto una risposta in ultimo devo dire che noi abbiamo dato un aiuto anche attraverso la SOGAL che è l'associazione dei 5 GAL dell'Umbria abbiamo dato un aiuto anche ai privati sostenendo o in parte contribuendo a sostenere le spese per la partecipazione a eventi fieristici di livello nazionale estremamente importanti e mi riferisco al VINITALI e Artigiano in Fiera che ci sarà ora breve a Milano appunto a dicembre e quest'anno visto che è biennale l'evento anche al Salone della Terra Madre appunto Slow Food che si è svolta a Torino e anche in questo caso siccome negli eventi fieristici sono importanti è anche oneroso partecipare per cui diciamo le piccole realtà non sempre hanno un'opportunità di questo genere e quindi noi abbiamo ritenuto in questo senso dare una mano anche ai privati il prossimo appuntamento sarà proprio a Milano nei giorni tra l'altro della vigilia della festa meneghina per eccellenza insomma 6-7 dicembre quindi sì no la manifestazione dura di più dura 10 giorni la manifestazione però la novità di quest'anno è che anche gli sbandieratori di Gubbio verranno al nostro stand dell'Assogale proprio il giorno 6 di dicembre quindi porteranno una ventata di Gubbio anche a Milano anche a Milano bene questo diciamo un po' il quadro di quello che è stato fatto ed è tanto come abbiamo visto ora ovviamente i progetti dovranno in qualche modo concretizzarsi nei prossimi mesi ma ci sono i nuovi bandi che incombono e sono opportunità che sia il pubblico ma anche i privati possono e debbono cogliere perché il Gale rappresenta un punto di riferimento importante tanto che posso rivelare una battuta insomma di aver sentito qualche operatore definirlo Santo Gale proprio per l'opportunità e la provvidenzialità dell'intervento di questo soggetto io ringrazio la Presidente Giuliana Falaschi buon lavoro ovviamente grazie a voi Matteo Montanari direttore del Gala Alta Umbria noi continueremo a seguire soprattutto i progetti che riguardano ovviamente la parte pubblica abbiamo sentito nel dettaglio tante iniziative in Alto Chiaccio come anche in Alto Tevere sperando appunto auspicandone la definizione e ultimazione quanto prima grazie ovviamente TRG Plus torna la prossima settimana sempre alle 20.50 con replica il giorno successivo alle 13.30 e sul nostro sito trgmedia.it buonasera